Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Camilla Vanessa Zuleika Marina Mi chiamo Sharifa Giovanni Mariangela Mi chiamo Suada San E perché sei qui? Ho saputo di questa iniziativa, mi è sembrata molto bella, interessante e quindi ho deciso di partecipare. Sono qui perché credo che in questo periodo dell'anno, ma soprattutto in tutto l'anno, è necessario aiutare le persone nel miglior modo possibile. Per aiutare un po' le persone che hanno un po' più bisogno di me, sotto Natale è bello fare questa cosa. Faccio quello che posso in questi giorni di Natale, mi sembra il minimo. Sono qui perché mi piace regalare un sorriso alle persone che hanno bisogno. Per vedere un po' cosa fanno, cosa fatta, aiutare, vedere cosa si può fare. Perché ci siamo riuniti per fare un'opera umana. Per solidarietà. Grazie mille. Ci possiamo dare qualcosa da mangiare, se vuoi? Ciao, buon Natale. Possiamo darti qualcosa? Ce l'abbiamo una coperta, vero? In quella rossa dovremmo avere una coperta. No, scarpe? Da mangiare sì, solo da mangiare ragazzi. Caro, ciao. Possiamo darti qualcosa? Vogliamo darti un po' di maglioni? Ciao caro. Possiamo darti un po' di cose? Hai bisogno di maglioni caldi? Maglione? Ti va bene un po' di maglioni? Tieni. Emma ce l'ha uno coperto. Uno coperto. Possiamo darti qualcosa? Siamo in tanti siamo. Mettilo, mettilo, voglio vedere come ti sta. Buon Natale, ciao. Ciao, buongiorno caro. Come stai? Stai bene? Possiamo darti qualcosa? Maglione? Ti serve? Bene. Buon Natale. Buon Natale. Anche a te, anche a te. Grazie, buone feste. Ciao. Ciao. Qua è una bella coperta pesante. Io ti vedo un po' bello. Niko. Come ti chiami? Raffaella. Buon Natale. Buona borsa. Questa borsa te la puoi usare perché è anche impermeabile. Buon Natale. Preciso, preciiso. Preciso. Posso darti un abbraccio?